ok ragazzi buonasera benvenuti con processi di impero siamo qua con il giudice clark foster bene 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 mi aspetto di marcia oh scusatemi buonasera mi sono svegliato adesso buonasera buonasera mi guardavate il terreno fermo come un palo qualche minuto vabbè vabbè bene sera processi mettiamo un po la serata cosa ci diserva il punto che siamo arrivati faccio bu giurice buonasera e guardavo al vuoto e allora tipo ok nei pensieri un attimo eh sì ero nei pensieri nel dubbio colpa di bruno tutto colpa di bruno ovviamente e ci fa andate a prenderlo se siamo a ritardo colpa di bruno perfetto grazie di nulla mi giuro se arrivate in procura bene aspettiamo il procuratore ma buona segra hanno portato marshall si ovviamente ok top servizio eccellente di marshall perchè quello che era tolto non lo vede qua sul tavolino no no non c'è nessuno guardi che è bellino fantastico che bellino che bellino non c'è nessuno non c'è nessuno giudice nessun imputato nessuno 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 vuoto ora ora vuoto 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 l'interiore vogliamo fare un annuncello io faccio gli occhietti di 5 minuti eh sì vetti a fare well giudice buonasera ma oggi è proprio la balla di fino che rotola non mi vede se c'è qualcosa avete ricordato nel calendario avete ricordato che stasera c'erano i processi ma c'è scritto l'ha fatto bonzo vogliamo fare un annuncino ho scritto il calendario che i processi sono rinviati a martedì ma c'è ma avete scritto stasera che i processi che ricordavate dei processi no è scritto nel calendario vogliamo fare un annuncino datico nucleare no va là ciao è scritto scritto i processi sono stati spostati a martedì cazzi mazzi ciao ciao non si è pesata da nessuno all'acchi all'acchi io volevo fare almeno una mezz'oretta di processi perché sennò voglio che ho portato a che ti ho tirato a porto eh ha senso ok 5 minuti sono gli occhietti la polizia la porta a maio perché? guarda che la polizia porta a spect le white race portano a spect eh? le white race portano a spect ma che fanno le white race? che devo dire? ma questo vuole a martedì magari diventa un attacco poco a spectra a vigà l'unica cosa che vende sempre al mondo e venderà sempre bene signore ma io sto pure da solo quindi meglio che in questo settore anche uno dei siti più familii avrei voluto avrei voluto un sacco se questa sera ci fossero stati po' tutte le persone informazioni affermazioni fuori città completamente fuori contesto i verticini porna si sono dimessi male davvero non solo c'è tanta mamma davvero passare non si passa di qua io ci passano che stavanti con fornita è l'immagro giudice ce l'avo fatto io non sono così angelo questa and yellow sun marine vabbè sono lontani no giudice sono bellissimamente incazzato dei ufori arrivato un tizio arrivato un tizio e chi è fatta dietro vedo l'avventura l'avventura effettivamente non era ancora arrivato in procura infatti non c'è ventura sera c'è una cena per dire ma io non sarei poco così contento che non viene nessuna perché perché devi fare tutti i mandati di cattura nuova la mia dei catturoni faccio io buonasera ovviamente occupa di farle cavigliere ma che non ho fatto da cavigliere io c'è cavigliere facciamo un po di cavigliere anche in me presenta no ma come tu non puoi certo che posso aiutare un po di cavigliere un abile anche a ritorno marini i due giornali tramite mani si è fatto con su una a va bene lì capisci a me l'avessere si non da sparare ma figurati a fare la telecamera l'entrata facciamo i processi internoste da voi del regalino se l'interno sempre rossi di un percorso ma c'è il conto ma c'è working aspettiamo ancora aspettiamo le 22 e un 15 almeno sono veramente magari non facciamo in aula o ve le fate privatamente non facciamo in inter non li facciamo in aula però chi che mi racconti sono giudice se bello di davanti al giudice mi devo anche oggi sto molto questo o segui ma perché tutta la confidenza il giudice è ormai tutti mi sono confidenti così come ma sai che ma sai che ti la mano praticamente scoperto sostituito sì ma chi ma un certo giudice ma il sender son carica da giudice responsabile del socio da questi insulti ma dove non c'è la dogana esatto comunque tu sei un pezzo del merda che per vedere i tuoi occhietti ti devo pagare ma quel cazzo no che senso su youtube vetti le repliche io carico youtube e no ma mettile direttamente questo è il marketing si scusa giudice facesse come me vado là faccio regalo e meno esatto lui è venuto ha fatto un regalo a me è un basso il film ma non puoi sapere che ha fatto chi è che gliela ci fa l'altariana di fare presenza che so chi è il pazzo il sindaco presidente insomma il capo vabbè comunque ma il sender son repente no ieri sia ho scoperto stamattina è scoperto che ieri sera ho fatto i processi no nessuno me l'ha comunicato no 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 l'ho scritto ma il senente mi sono scritto il senna mi è scritto sino pezzi del merda e no come cazzo guadagno l'ho scritto l'ho scritto un attimo solo infatti vedevo che mi mandava un po' troppa roba però non pensavo che fossi diventato giudice allora stavo dicendo l'ho scritto buongiorno giudice anderson le scrivo questa mail in merito ai processi tenuti nella serata del giorno 15 di luglio vorrei chiederle come mai non mi è stata notificata la presenza dei processi in quella data c'è stata l'eventicanza? attendono sul riscontro al riguardo con le risfaluti onorevole Clark Foster è lui risposta salve giudice Foster i provvedimenti vengono fissati nella relazione alla reprendibilità immediata oltretutto può rendersi edotto autonomamente dei procedimenti in programma dal foglio processi con i saluti non ne vuole mai essere adesso siccome se io dovessi andare al foglio processi e vedervi da soli capito? senza che nessuno mi scrive che ci stanno è come dire col cazzo io col cazzo faccio così io voglio essere che mi venga a scrivere perché io non mi dimentico io rispondo i processi mi sono sempre stati notificati le chiedo di invitare i procuratori a continuare a farlo punto glielo avevo comunicato anche lei la scorsa volta saluti onorevole Clark Foster e poi dopo lui gli eroso il culo che gli ha scritto così e mi ha scritto fuori anche fuori dalla città ok? esatto grave grave è uscito fuori ok e se mi so rispondermi fuori noi io diciamo non mi dico cosa mi ha scritto però comunque io poi gli ho risposto a modo come io so fare insomma 10-5 ha capito dillo dillo no l'ha girato no no non l'ho neanche letto sul messaggio di risposta la terza non va a essere sincero non l'amore no brutale ti ricordi quando mi ero attaccato mi ricordo con chi in polizia che scriveva scrive alla fine gli ho detto ho capito se è ricordino parola per cazzo l'indifferenza vale più di mille parole se è ricordino parola ah si semplicemente vabbè comunque non per ti farò leggere vabbè andiamo in interno giudice la prossima volta mi piacerebbe scortarla anche di là però non solo qua dove? ah scusi che si ma di là ma non ho scavalcato cioè di là apparente passo posso anche non andarla di non andarci ah ok non ti preoccupare adesso vado di là ma sul giudice ti serve una mano? ma che mi serve una mano? ma si è messo a ma si è messo a fare tutta la procura per bene a copiarvi insomma sto notando molta semiglianza a la procura ma insomma diciamo che sta certo ho fatto una blinding della ancora devo ricaricare poi si è messo a fare una cosa molto interessante la cosa carina si è messo a fare cioè l'ufficio personale di là l'ha fatto molto bene cioè in senso lo copierei io se fossi voi sì ma tu non sai il sistema giudiziario di là lo farei molto molto lo copierei sinceramente tu sai cosa ha fatto in un'altra città si è fatto un sito e l'ha fatto lui da zero si è fatto fare noi abbiamo un wolf hanno messo l'hanno buttato giù calendario processi 25 hanno fatto 1 2 3 4 processi senza manco come 4 noi andiamo a 15 a botte ormai polizia e procura signori ma qui siamo migliori noi siamo migliori noi vabbè dai andiamo a farli a urlarlo polizia signori signori siamo alla procura migliore tiro porto ti rode un po' un po' mi rode il culo si mi hanno scavalcato perché sai fino all'altro giorno ero io che mi facevo il culo dove andare di là fare i processi allora tu ti gridi un attimo a posto allora mi dica lei morì chi le ha messe ste pene raga ma fanno cagare erano troppo basse ma quando lei era basso ma come deve essere troppo basse questa cosa succede ok ok allora abbiamo nel primo Jordan Creed se questo è di pubblico ufficiale ma minaccia pubblico ufficiale cosa ha detto ha detto la prossima volta ti vedo tipo alzi le mani per favore c'era anche il portafoglio prossima volta che la vedo le sparo direttamente in faccia senza che il contratto neanche molto bene alzi le mani molto bene quanti le mani a favore c'è la casa del 4 del 4 giul giul che sarebbe giul in inglese giulio madonna è figa non c'è il 4 giugno il 4 giugno era ancora in ferie c'è il senso noi siamo a trotta più veloce possibile fa due alla settimana non possiamo più di questo due diciamo più no che sì noi difissiamo il venerdì poi tu dici no poi dai quindi a questo che dobbiamo mettere è un attimo questo chiede 70.014 anni ma per 70.014 anni prossimo mi piace più allora quello deve andare verso la fine ma io posso condividere il mondo intero i falli processi no sì ma se se l'altra se le schelle sotto li mandi in altra parte no no non me la sfanculate prego mostra ma non si vede nulla interessante no 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 non me la mostra perché si vedono le penne che dobbiamo ancora mettere che stress fai mostra la stanza delle proprie video allora anghella della morte ha detto a un poliziotto se non te ne vai da qua ti arriva un proiettile in testa più di una volta le ha detto aspetta che prova metta le ore video un attimo però la GoPro è lunga deve andare verso la fine un attimo ragazzi che mettiamo mettiamo una sorgente browser mettiamo una inserire schermo ok mettiamo Google Chrome non questo questo perfetto ok sto facendo vedere la pagina ok si ma è lungo lago però quindi vai verso la fine non trascenda e non si permetta di offrire la mia persona che vergogna che ti avevo detto dove sta la minaccia non lo so zio bene vabbè cazzi comunque te lo dico li ho visionati prima ha detto se non te ne vai da qua ti arriva un prete in test ah minchia gentile centomila e vent'anni vabbè centomila e vent'anni ok Maurizio Ferrucci di versione fiscale secondo processo ah si perché non ti hai chiesto all'elgastro? no è che lo chiediamo al terzo cioè noi siamo buoni chiediamo all'elgastro al terzo secondo mi sembra un po' too much valiprocessi non li ho fatti io quanti dollari centomila dollari e dodici anni ma quanto aveva di dimissione? non lo so non li ho fatti io valiprocessi ok quanto allora? allora avete chiesto centomila e dodici anni è inutile mettere i centomila dollari facciamo lì ventimila dollari ventotto anni e venti ore servizi socialmente utili per se è fiscale è inutile mettere i soldi di punta eh ma è inutile pure mettere i servizi socialmente utili se non si è presentato ma magari dice ah ma quanti servizionalmente utili? è venti ore poi abbiamo carletto la roccia sì in pratica dalla coperola si vede lui che è dentro il camion dei tenuti e non l'hanno perquisito bene ok e ha preso una pistola e ha preso un ostaggio un agente dentro dentro il camioncino che andava verso il carcere dopo una sparatoria motivo di rinvio eh? sequestro di pubblico ufficiale cioè non capito il motivo è per quale motivo cosa ha fatto ha preso una camionetta e? ah in pratica avevano fatto una sparatoria ok li avevano arrestati tutti questo qui si erano scortati di perquisirlo si è smanitato ha cacciato un mk2 e ha preso un ostaggio dentro al pulmino verso che si dirigeva verso polinbrook e ha preso un ostaggio un agente di polizia e per farsi rilasciare ok tipo non mi prendere mai e alla fine hanno preso il chiedete 120.000 dollari 15 anni va bene va bene troppo basso comunque questa non me la chiedere questa non me la chiedere perché non ne so niente è una squadra di sacchi sa che se non c'è potuto essere io non so niente è una coprova di mezz'ora e io non la vedo mi dispiace mi dispiace ma io non la vedo vabbè 80.000 10 anni vanno bene poi aggiungimento di 5 rate di classe e manoroccia aggiungimento di 5 rate di classe 10 continuiamo ora quanto è un'altra e facciamo 90.000 dollari e tutti le vengimenti per la classe app e già mettere 90.000 dollari e 15 anni dica c'è il tenente matalazzo che la sta cercando in radio 4 eh un attimo un attimo appena po' eh si in caso infatti lascio il numero di telefono che poi lo chiamo adesso finisco qui metti sì metti malaroccia 90.000 90.000 15 anni aspetta sto mettere i 15 anni a tutti e 90.000 hai detto sì allora abbiamo abbiamo Zakir Mohamed che ha raggiunto di 5 rate di classe e va sì qui ci facciamo 120.000 dollari no 100.000 dollari 25 anni e 20 euro di servizio cioè 20 minuti per l'evasione fiscale 25 ore 20-20 come l'altro ok ce ne stanno l'evasione fiscale bassano a 20.000 28 anni 20 ore stasera mi va di essere buono facciamo piccole multe piccole sanzioni 20 ore è l'ultimo è l'ultimo uguale a quell'altro quindi 100.000 25 anni e 20 ore ok a posto bene allora mi chiamo al matrazzo vediamo c'è che qualcuno lo cercato ok allora non aspetto che facciamo eh sta arrivando a matrazzo che ha bisogno di me e poi andiamo a fare mandati penso ciao 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 bello buonasera no a prossima sera alla fine non si fanno perché non c'è nessun imputato hai numerato che palle volevo fare qualcosa subito hai numeramente di matrazzo no sono curioso sono curioso mi vuole matrazzo che vuole si si stasera andiamo a cercare eh però che palle io volevo eh ma dopo prima matrazzo eh ma è sta matrazzo dopo matrazzo eh ha detto che urgente se no avrei fatto a me non è mi cambia qualcosa cazzo sta la matrazzo oh andiamo dai giro ci corre un po andiamo la matrazzo ma che corre vada vada così dimagrisci sono vecchio andiamo un tosso un tosso io non do se ero un primo eroni bruno mamma mia se sbaglierei pagherai il triplo degli altri a lei stava terazzo buonasera buonasera giudice esserà piacere ciao buonasera buonasera giudice buonasera 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 attravo Dalla parte opposta al tribunale, c'è il tribunale, so All'uscita è il tribunale Ciao Il giudice, salve giudice Si sta mantenendo in allenamento Vedi come è scesa È pure caldo, è pure caldo La prossima volta si sbottono Non pensi a un po' di vedere Lo so che lei è una persona formale Non sei il tribunale Il petto peloso Comunque, vabbè, vi anticipo già Mi piace piacere, più che altro se stavano i colleghi Però sta recuperando un veicolo a un civile Che è rimasto senza il veicolo di salire a nord E l'altro, non so che fine ha fatto Mi si è fatto un 10-0 Allora, in pratica Stiamo reggendo le fedine Prego, di nulla Vi faccio spiegare da Toto Toto, spieghi un attimo al procuratore, al giudice Cosa è successo, perché abbiamo chiesto comunque Un procuratore Allora, vi spiego Noi siamo gli adetti alla documentazione Mentre stiamo controllando le fedine Abbiamo visto un soggetto Francesco Rosso, si chiama il soggetto Che ha sei reati di classe A C'è stato uno sceriffo Che ha il quinto reato di classe A Che il soggetto ha fatto una plane Non l'ha rinviato a processo Poi c'è stato il sesto di classe A E il nostro collega Non l'ha rinviato neanche a processo Sì, questo collega Screamerà Lo stiamo aspettando Stiamo aspettando di venire Ci mette un bel richiamo per negligenza Solo richiamo? Ed è che dice giudice Lei andiamo per una sospensione Oppure Non lo so Parlate Parlate Quei quasi superiori Eccolo qua Poi l'altro collega Questo collega? Collega? No, no Vabbè, vabbè Giudice Venga, venga L'altro collega Della detta documentazione Stavo dietro di lei E niente Quindi Volevamo chiedere Se era una cosa di prassi Richiedere un mandato di comparizione Della persona Guarda, oh Giudice Lei Ma non è sposato Non ho capito Io mi ricordo che lei Scusato con la legge No Lui è sposato Con l'altra giudice Con la Waldridge Sì, sì Ah, con la Waldridge Quella è solo una Che sta lì in casa Basta Non è la moglie Ma Da quanti anni Occupa questa mansione Da giudice? Da giudice? Da sempre C'ho 65 anni Faccio questo lavoro Quando ne avevo 27 Mamma mia Sempre Sempre Siamo Sono 38 anni Che faccio questo lavoro Cara Ma Quindi Seconda vostra esperienza Buona norma Chiedere un mandato di comparizione Della persona Da rinviare a processo Oppure attendere Il soggetto Venga prestato Mandare un Sì Sì Diciamo che per un sesto Dei classe A Ignorato Direi sì No No Però lì si Vincerebbe la figura di merda Della polizia No ragazzi Aspettate che fa un altro reato Ma farei un mandato di rettenti di cattura Almeno così No No Corretto Cioè Così a casa Non è che puoi fare un mandato di cattura Per 6 O 10 Rati di classe A Perché è stata una negligenza di noi Che non l'abbiamo rinviata a processo Develo scelifato Precisiamo Sì Ma anche Pure nostra Esatto Anzi Nostra ancora peggio Ci facciamo un po' la figura del cacca Diciamo Se facciamo un mandato in comparizione Lo cerchiamo di Fare stare Da una punta Eh già È una bella negligenza Sì No ma è dire di aspettare Non penso sia il caso di Cioè Di chiedermelo di comparizione Se riappare ovviamente Eh dov'è Ma riapparirà Riapparirà Sì spero Va bene Va bene Va bene E mo stiamo aspettando il collega che esca Dalla tac Che l'abbiamo convocato stasera in centrale E così pensiamo un po' A strigliarlo per bene E non faccia Dopo le 23 Ok ok In modo vogliamo Semmai pure il vicecapitano smith Esatto Eh sì sì Dopo le 23 torna smith Se non ho incontrato Per la centrale Non parla male Di colleghi Davanti pure un giudice Davanti a noi È un buffone Se la sente smith Eh Guarda procuratore Non si faccia sentire Sì Cioè Quello veramente non c'è un'idea Di come si fa il suo lavoro Chissà come è arrivato A quel ruolo È pronta a ricevere le obiezioni Abbiamo già finito Ah Come sono andati i processi Non si è presentato nessuno Ah direttamente Sì sì Tutti i mandati di cattura E se te ne andiamo a aprire le orecchie Molto bene Molto bene Per mancata presentazione Eh certo Ma una domanda Ma la gente che compila Il modulo di rinvio a processo Deve essere chiamato a testimoniare Oppure non serve Sì Se vuole Diciamo che dipende dai reati che fa Se sono dei reati Tipo il suo terrorismo Se serve ti contattiamo noi tramite mail E ti diciamo di venire a testimonia Ma no Eh perché io ho fatto Qualche rinvio a processo Per classe A Parecchio tempo fa Credo che il processo Gli è stato già fatto Ma nessuno mi ha contato Vabbè ma Per reati di classe A Non c'è bisogno Al massimo Al massimo Desiponiante Su questo pubblico ufficiale Attentati Eh il problema è questo E che puoi mettere Il link della botte Quella lì è un bel dito Ah raga ma Ormai sappiate che Non mettete Il link Delle botte Noi Cioè Noi annulliamo il processo E basta Cioè Quella Resta impunito Per una vostra Negligenza Cioè Sì Questo capita solo Quando c'è un reato Che non si è Avasione fiscale Giusto? Soltanto Quando non è 5 gradi di classe A E avasione fiscale Che link della bottecan Vuoi mettere a Una di 5 gradi di classe A Appunto Non serve Sì Metti a foto Da Appunto 5 gradi di classe A Se si trova magari In minaccia al pubblico ufficiale Ah certo Quella parte La derinvia Quando minaccia al pubblico ufficiale Ad esempio Io l'ho sempre fatto Infatti E oggi abbiamo fatto Uno rinviato da te Ma però Che tanto la prossima volta Non contratto E ti sparò direttamente in testa Ah ah C'era lui Cioè Si è presentato No no Non si è presentato Si è venuto tu L'ultimo Che abbiamo fatto Alla carcere federale E quando l'abbiamo fatto? E al 947 Mi ricordo C'era pure C'era No va là Non lo facciamo Venerdì Forse in centrale Stai parlando ora No stiamo parlando Del fatto che Io volevo chiedere al procuratore Se c'era una persona Che ho rinviato a processo No no Venerdì Se non mi sbagli È un'attacca Doverà presente Hernandez Voi so anche Smith Sì Smith c'era Mi ricordo Ma no è venerdì Il suo processo C'era fisseremo Per venerdì Ah adesso si Mi ricordo In quello Dove aveva fatto Tango 2 Non stai capendo Signor mi sarò Un attimo Scheme di messaggio Che tocca Si tocca Mamma mia Oh Non si riesce a mo La vettirà Non si riesce a mo Voi Voi Chi è la chiamata Baschpencer Che cazzo Si rilassero Non si rilassero No no Scusatemi Scusatemi Voi vedi sta 9000 Vettirà Altamente illegale Giuse di caccia Io giro con la 9mm Signori Ti do una gara Io sono la carica Dello stato più alto Esistente in città Quindi si posso E poi giro con questo Che è mio amico Questo non fa male Spara Minchia Perfetto Va bene raga Io vado a fare Mandate di cattura Vabbè Io fanno Andiamo Giudice Quindi alla fine L'ho convocato Alle 23 Quando c'è Smith Esatto Sì Sì Vabbè L'aspetto Poi Al vicepresidente Alla 23 Matalazzo Lei Scrive un messaggio Sulla mia Sulla mia Va bene Siamo Io vado subito Non mi so Questa Cringiata Perfetto Arrivederci Salve Agenti Buona serata Salve Andiamo Andiamo Bastardo Monshell pronti Per i rimandati Di cattura Sì Alleluia Eh Zombo Da tre Inventamento Oh Il parto Oh Oddio Speri Schiacciate il giudice Schiacciate il teaser Chissà chi si riprende Mamma mia Signori Mi sono confuso La corsa Mi fa venire Gli infarti Ha lasciato Il capo Nel mio ufficio No È appoggiato qua Ah Ok Buonasera Signorina Buonasera Arrivederci Come va Tutto bene Non c'è male Arrivederci Buonasera Quello Verdoni Lo perdoni Così Con calma Giudice ha bisogno Di un passaggio All'hotel No Giudice mi aiuterà Con il Mello Dei Mi saluto Signori Sono attenti Dategli Una Ho trovato Trovato Uno Il first Stai Come Attenti Saluto Dov'è Giudice Dov'è Giudice Ecco Non si va Qua Alla scuola Dov'è Giudice Chi ha trovato? Uno Di oggi Proprio Fresco Fresco Si chiama Si chiama Cocco Outrack Ma è quello Di qualsiasi Bellume Bella fantasia Cosa di fiscale La 5 Di classe Sì E il numero Della sua cavigliera Vorrei sapere Giudice Ehm Ehm Vieni a vedere o no? Venga da me nel mio canale a voce Eh qual è il tuo? Venga fuori servizio che la sposto io Eh dammi i permessi No Che schifo Dimmi 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 4.8 arrivo eh Tanto mi devo mettere Stai cagata No 4.8 Check 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 Posso I giudice Ce ne andiamo a bracetto Sì Quanti ti ho dato Io giudice Andiamo in sala computer A guardare Le cavigliere Buonasera Tanti tardi Eh ragazzi Io vi faccio vedere Come si trovano le cavigliere Andiamo giudice Andiamo in sala conferenza Dove sta qua il computer? Eh quante ne vuoi? Beh intanto ti vedo C'è culu C'è culu C'è culu Perfetto Vi sentite E qua non c'è una vera e propria sala Dove te Non c'è la sala dove te te le camere qua No ma no Mamma mia Mettiamoci in un ufficio In un ufficio? No le mettiamo nel computer Ah cazzo In un ufficio vai Sai Qua Andiamo Ragazzi L'arresto lo farà mar3 E sarà prego Per l'arresto Ok Sta guidando Faccio io Ok Ecco il Allora Ci chiamo a camiglia L'arresto lo farà mar3 E? Ti chiamo a camiglia 532 532 532 532 Ah bello Sai che ghetto? Non sa in casa la fazione Sai Questo cazzo che c'è il suo quartiere Quindi diventa molto 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 Tutti attaccati Quindi direi no 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 Non vogliamo rompere le palle in casa la fazione No ma non possiamo provare Esatto Lasciamolo stare Andiamo avanti Andiamo avanti il prossimo Andiamo avanti a stare in giro Vediamo Eh ma io mo li cerco mano a mano Guardate che sono in live Ok mi raccomando Non dire parole per nabili Ah beh io so Guarda che per me è più facile Trovare l'agente Se mi dici come si chiama su Steam Io la trovo sul Se mi dici come si chiama su Steam Eh non lo so Poscono te Se siete in macchina Io me le trovo tramite il Cire Quante cavigliere abbiamo a cercare noi? Quante le vuoi? Ma dove le vedi tu le cavigliere? Cercare Eh I processi che abbiamo fatto Eh come fai sapere Che li hanno catturati? Che non Come sapere Chi li hanno catturato E chi no? Eh quelli di stasera Sicuramente non li hanno catturati La tua parte da stasera Eh sì certo Chi chiama da poco Nella mia posizione Ma io ci congione della muerta Io so cercare Anuali Ragazzi come siete messi a benzina? E' un po' Ma non è un po' Inviato a processo Vediamo se ci sta Angel della muerta C'è Angel no? Non lo so Sto guardando Sì Angel della muerta Sì ID? Sarebbe Sassi Sassi in tv Sì sì Uno Prostico Cosa? Ah dei segnali Dele case Eh li sto cercando Sto cercando Forse che ci stende in game Certo Certo lo so che ci stende in game Sì 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 Perché? Perché ha arrestato uno dei suoi E figurati se non lo fa con l'AW attiva Vabbè Wow 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 ma se li sta tipo a tutti qua Vabbè andiamo facci i cazzi nostri Andiamo al prossimo Allora Martinetta Carletta la roccia Io cerco Davanti Mi hai chiamato in cui ci possiamo distaccare per sta benzina Distacca Velocemente Arrito Vabbè Si è puntuale Distacca Oh Carletta la roccia 389 Oh tu li trovi tutti 389 Si Si sta muovendo in macchina Ok Quindi è giusto Sta muovendo in macchina qui Aspetta Dove sta? E fuori si sta muovendo 389 Sta Sta salendo sul court center No Sta salendo su per la strada del court center Ma prosegue dritto verso il benzina No Si gira No Eccolo qui Si gira Aspetta Ok scende giù in città Com'è che si chiamava? Eh Carletta la roccia No Allora Si carletta la roccia Ok Marshall si è pronti? Ok Allora Mar 4 pronta Il soggetto si chiama Carletta la roccia Stai c'era la battuglia Marshall Ti troviamo Alla 634 C'era la battuglia Marshall Più fianco Vabbè chill chill Non devono capire loro Non glielo posso dire Non lo so lo so Va al 637 Ok Ok Luce verde Intercettarlo per l'operazione Va verso la centrale di Vespucci Oh Fushanov Buonasera Il soggetto Di che fermo Vicino a 352 Centrale di Vespucci Di nuovo Va verso Multipliano Mar 2 fermo Un attimo Regalmente andate Andate avanti voi Tutte le indicazioni Del progetto Va verso il court center Ma te che posso davanti un momento Salve Ragazzi Ditemi quando sei pronti Salve al court center Ti dico tutto Andiamo davanti al negozio di auto Ma lui salve al court center Ma lui mi ha lasciato a morire Sì ragazzi Questo è morto sicuro Sì sì Andiamo a morire Marsha Vediamo 60 gente Madonna Morirà Mamma mia Mi stanno a fare un rapimento Non possiamo neanche intervenire Aspetta Stanno facendo Sì 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 Stanno facendo un incontro Via 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 Andatevene dal court center Dove cercare un altro caviglier Ok Ci allontaniamo la zona Ok Ci cerchiamo un altro Andiamo a rivedere E' il primo Il primo che Tu puntati chi era online Tu puntati 532 Arrivo dal 532 Che era il primo Che ho cercato io Esatto Ti vado al 729 Che era No Stai ancora in casa 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 Eh sì che c'è 433 E sta in Un'officina Dove sta Sta all'exo Santos Custom Quello vecchio E' una casa fazione Manteniamo le informazioni Delle margine Ti metti al numero Ok Vedi la gente mascherata Ah no Sì Vedi la gente mascherata Vedi Ma è un'officina questa Forse è un'officina illegale Esatto Vedi 35501 Ma uscirà questo da qui Dai Non starà via di finito Non lo so Che sta a fare Vabbè Andiamo Che abbiamo L'imera la roccia Dove è mar 1 L'imera la roccia Mar 3 Non c'è Non c'è Ma la roccia Quattro Mar 5 Ragazzi Avanti Dezanti Che sta a fare Mandate ricattura Di quelli che non sono presentati Il chofer a precesso Non c'è anche noi Ah qui Scavate il dv Dimmi dove sei Eh Sto a procura Però sta a partire Semmai Pure tu le vedi Sto a girare dall'altra parte Vieni verso l'ospedale Arriva No questa è Non c'è Lo prendiamo L'amore della Mar 3 No no Lo prendo io Che guida lui Ok ok Non c'è Alessio Pondone Non c'è Non c'è Quelli sotto Li ho già già visti Io ho già già visti Io ho già già visti Quindi Intanto bisogna farò vedere Il primo 532 Sto sempre in casa Faccio una foto Della passione Per il montaggio Fuzza che la ragazza Ma anche solo te Dai ragazzi Corre 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 Dai Corre Scricor Scricor Vieni 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 Oh C'è una in corta Questa è stata uscita qui Li possiamo pull a po' Qui? Ah? 433 Eh ma non so Ma non c'è tanta gente che c'è al core center Eh? No ma stavo guardando al core center Quanto gente ci fosse Ah spero Vorrei che magari si formasse Si facesse tipo Non so Fosse una casa passione Ok Jackson Quindi la che solo fa casa nuova Affermativa Non è in falegnaveria Ma sono tipati? Sì Sono tipati Ma in che senso No no ma queste cose Ma Queste cose le posso fare le vali Cioè No no Stasera c'è un macello Molte cose strane Si vedono Sì Quindi posso Ma vedi Mi sa che stanno facendo Una riposa O ci Sai Ma che ci posso fare Vedi se non mi ha perdito Ma vedi si tippano Ovunque così Vedi si muovono Vabbè Andiamo Andiamo C'è un loro vento Vabbè niente Qui c'è stasera Mi sa che sono Quindi Andiamo a vedere Quei discorsi Salvatore e Giuliano Li avete catturato? Così va a sapere Sarei catturati o no Cioè io non capisco Questo sta a fare ancora La foto della fazione Salvatore e Giuliano 389 Mi sa che si sta a muovere Qualcuno ce l'ha vestito ragazzi Diriga Te lo butto su 39 il cazzo era? Puoi vedere da Dalisiad Sì 389 389 Sì Franca Chi sei? Chi sei? Eh ma Chi ero ma questo? Puoi vederlo da Dal di Beaver Sì 389 Per letto o la noccia Ok E' ricercato Come si chiamava? Carletto la noccia A posto raga Aveva trovato La La cabelliera Sempre Carletto la roccia Sempre Carletto la roccia E E Archivico 625 625 Non è fatto? No No Luce verde ragazzi 635 Luce verde 625 625 625 25 25 25 Dove sta l'ultima roccia Mi chiedo io Stavo là su Nonna mia Va verso il court center Ragazzi se riusciamo Intercettiamo la spetta Va verso il campetta Da gol Anzi no Sparano con la polizia No Si Aspettate raga Vediamo il gps della polizia sul posto Luce verde rossa Fermatevi qua Vediamo il gps della polizia sul posto Eh vediamo il gps della polizia sul posto Quindi non possiamo intervenire Aspettiamo Provo a vedere Qualche a fai Proprio dentro casa Con totale indifferenza Ragazzi I gps dei Marshall Sono i gps dei Tadelli Ancora fa sta roba Della casa Fazione Guardate questi Allora Agente a terra Supporto immediato Se ne vabbiamo Vediamo Vediamo Girono con l'armo automatica Ma so Ce l'hanno Verrà l'armo automatica Si Ah sono ancora Spera contro la polizia Niente Di niente Che polizia non arriva Che palle Allora Vediamo gli altri Mandati di cattura Prima 5 Uso il 10-0 Di Caruso No Sto allontanando Guarda Lo salito in macchina Allora Aspetta Ok sta lontana Vediamo se disingaggia Un attimo Ok Disingaggia Si Saranno verso il tequila Dalla trasversale Quella sopra Il 675 Di lì 675 Direzione tequila Ok Guarda davanti All'ospedale Di lì No Atti Ok Me lo becca Davanti al Donuts Ok La caviglia Si trova davanti al Donuts Si trova davanti al Donuts Qualcuno lavora qui? Ragazzi intervenite davanti al Donuts Eh posso affrontare Come è che si chiamava? Mi fermo davanti al Donuts Caffè Carletto e la roccia Allora si chiama Carletto e la roccia Allontanati che ti sento in R.P E davanti al Donuts E ovviamente dovete aspettarlo fuori Che esce non dentro il locale Ah tu si sento in R.P Ok E alla radio che ti sento in R.P Capito? Sì 4 Non dica di chiudere il locale Cerchiare il locale Allora Ah quelli loro devono sapere loro Io devo dire soltanto dove si trova la caviglia Marching senza partner 3 pannoli Che fanno? Non possono blizzare dentro Eh? Non possono blizzare dentro il locale E non sono nella zona semi safe Devono aspetta che esce Eh bello mio Esce Ok Guarda si È uscito dal Dal bar Ragazzi se è uscito Potete prenderlo Più verde E che ne so Più verde Si è uscito dal bar In macchina E portiamolo direttamente in carcere Oddio un porto Veramente Fai Fai quasi C'è la fatta C'è la fatta Non ce l'hanno fatta Non ce l'hanno fatta Dovente Il cazzo Non hanno fatto a non blizzare la persona ferma Eh niente Hanno uscito un buco in mezzo Tra due macchine E lui ha sfogato Troppo divertente Ragazzi siamo al 694 Guardate quindi se lo perdete Passiamo al 692 Si dirige verso il 502 Ma tutti con la macchina Se lo prendo fuori strada Lui è Con potuti Mi sentite? S'ho crashato Bravo Sono a piedi vicino al campo Sono crashato Ho continuato a dare l'info in casa Check radio Prendo mano io Alla coordinazione della cavaliera Perché non c'è più il procuratore Ha avuto 12-0 Comunque Penso che voi vediate bene la persona Quindi finché la vedete Comunicate voi la posizione 64 Oggi si è ribaltato a 4 Si è ribaltato No Mi spiato? No 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 Sta andando da qualche parte Non so Tornando dove c'è l'azione Non c'è l'azione Non c'è l'azione dietro Ah perché come vuole Stai in marcia Campo da golf 6-5 6-5-0 Oh Un incidente contro di lui Quanti sono rimanciati? 2 5 7 10 11 Sono solo 11 12 Il massimo è 12 9-14 Il massimo è delle persone D'azione Scusate Mi sa che per queste robe Sanno dove Si faranno quelle automatiche Dite Dimmi che possono utilizzare Le automatiche Ma io sei lontano 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 Perché scappano le marcia Le automatiche Perché noi Ritorneranno E faranno una Qualcosa E' quello che si faranno March 5 March 5 Lontano dalla zona March 1 fuori dalla zona March 5 Si fermi Ho disingaggiato Marshall. Come ho disingaggiato? Sì. Tutti? Sì. Eh, dì che non possono più riandarlo a pieno. Vi ho avverto che vi siete allontanato tanto dal soggetto. Che è successo? Ho visto che vi siete allontanato tanto dal soggetto. Che è successo? Contro fuoco. Avete quindi deciso di non procedere più per la cattura? Per prevenire eventuali partire, sì. Quindi niente più cattura, perfetto. Allora procediamo. Aspettiamo. Siete allontanati troppo. Potete tornare di nuovo alla postazione di ripartenza perché non potete più tornare da lui ora. Ok, è qui Mar 4. Dobbiamo fare rifornimento di carburante. Sì. Ci sono stati dei 10-100. Mi salite se c'erano delle marferme indietro. No, no, confermo. C'è gente a terra. Abbiamo tipo sì, abbiamo tipo sì Marshall a terra. Aspettiamo... Agente a terra, supporto immediato. E' stato armato dietro di noi eh Check mi sentite? Affermativa Non è che è tornato scusate Vedi se sa se Sta ancora in casa Che ti era? Non mi sono Che calo sono Allora 729 E' ancora in casa Poi dopo c'è Attenzione perchè Attenzione c'è un ragazzo armato dietro di noi Il 532 è uscito ora Chi sa? Chi è il 532? Non lo so il 532 è uscito Da un volante sta andando nel posto dove hanno sparato Ok Ma chi è? Mi sapevi sapere Chi è? Che marcia di fare l'identificazione? Eh? Non lo so il 532 Che cazzo ne so A prendi B cerca Il 532 E' uscito Qui in mar 4 Siamo senza carburante Siamo senza carburante E a me come faccio a capire come si chiama il game? Eh? Come faccio a capire come si chiama il game? Login su DB Poi prendi il copy in Excel E lo incolli in una carattina cittadina Che idea Eh 532 Ok chi coordina in questo momento allora? E poi dove dobbiamo andare? Ok E qualcuno deve andare a fare il rifornimento? Ok 111 Ok 111 Raga Oh no Quindi dobbiamo andare al 111 Ok E' arrivato Ok E' solo mar 4 quindi deve andare a fare un rifornimento Ma a 5 abbiamo il pieno Ok Non è consigliabile però andare al sepulore qua dietro mi dà Ehm Vabbè ci distacchiamo un attimo e andiamo a fare il rifornimento Allora Ah beh io devo andare Questa volta è la seconda volta che parlo Ah beh è bella Eh sì ci sono alcuni soggetti che sono lato Buonasera io vi saluto Buon mi ostacolo C'è Beh ragazzi abbiamo fatto stasera Una serata un po' particolare I processi non c'erano Andiamo al tema I processi non c'erano Quindi abbiamo fatto i processi in assenza Quindi in ufficio Poi ci sono che ho avuto qualcosa da fare con la polizia E poi alla fine abbiamo fatto le cavigliere Come avete potuto vedere Come funziona appunto il sistema cavigliere E' questo Il sistema cavigliere appunto funziona Ciao it's Joe Il sistema cavigliere appunto funziona così Lo staff Aspetta appunto le persone che hanno le cavigliere E dà informazioni sul civico Dove si trova e la posizione dove si trova Senza dire Senza dire come è vestita la persona Senza dire su che veicolo si trova Senza dire quante gente c'è A parte ovviamente quando stanno facendo incontri criminali Rapimenti Azioni criminali già Azioni come la polizia O io sono in casa fazione appunto perché non dobbiamo infrangere il regolamento Nel sistema staffer Dobbiamo prevenire appunto l'infrazione del regolamento Di conseguenza stanno facendo rp serio magari tra di loro con altre fazioni Sono in 47 Non vogliamo far intervire i marshal per rovidare le azioni ma semplicemente facciamo in modo che tutti si divertano Ovvero che siano appunto da soli in giro Cioè che siano appunto in giro senza fare azioni Che siano in giro in macchina Che siano fermi in parte di un locale Quindi che escono lo prendono Comunque ragazzi E' il mio albergo questo E' una zona disparatoria E' il mio albergo vado Beh ragazzi Senza particolare comunque Mi ringraziamo per stati qui con me questa sera Anche se non è stato molto estante lo so Vi ricordo di fare punto schermo attivo Comandi Proprio tutti i comandi Punto schermo attivo Yt per seguirmi su youtube Comunque questo è tutto Vi ringrazio per stati con me E buona serata Ciao Grazie a tutti i comandi Grazie a tutti i comandi